Buongiorno cari amici. Jacopo Gardillo, in arte Iago, è un noto artista e scultore italiano. A sorpresa, l'altra notte ha collocato una sua opera nella grande piazza plebiscito della città di Napoli. La scultura è molto particolare. Raffigura un neonato in posizione fetale, ma che al posto del cordone umbilicale ha una catena fissata all'astricato di pietre della strada. Utilizzando un gioco di parole in inglese, l'artista ha intitolato la sua opera Look Down, che assomiglia all'inflazionato vocabolo che sentiamo centinaia di volte al giorno, Lock Down. Ma non significa la stessa cosa, non significa isolamento o neanche quarantena, ma significa guarda in basso. Il messaggio è quello di non dimenticare tutte le persone che in questo momento di crisi hanno perso tutto, o stanno affrontando una povertà improvvisa, o sono caduti in basso nel bisogno. Il messaggio è quello di non essere degli egoisti, concentrati solo sui nostri bisogni, sui nostri problemi, sulle nostre cose. È un messaggio positivo e senz'altro condivisibile. Tutto questo però mi ha ricordato immediatamente un pezzettino di una lettera che l'Apostolo Paolo scrisse molti secoli fa alla chiesa della città di Filippi, in Grecia, dove invitava quei credenti ad imitare i sentimenti di Cristo. Leggiamolo nel capitolo 2 dal versetto 3. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di serbo e divenendo simile agli uomini. Umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Un neonato nasce con l'istinto di aggrapparsi con forza a qualsiasi cosa, vero? Nasciamo per aggrapparci a qualcosa e fin da piccoli, anche nei bambini, si manifestano caratteri più o meno gelosi o possessivi, e non a caso una delle prime parole che impariamo da piccolini è mio. Ma questo passo straordinario ci dice che Cristo Gesù, la parola eterna, il Figlio di Dio, ha guardato giù, in basso. Direbbero gli inglesi, He looks down, verso di noi, e ci ha visti come quella scultura, incatenati a terra, prigionieri dei nostri peccati e della nostra disperazione, e ha deciso non solo di guardare, ma di venire, di raggiungerci abbassandosi in un abbassamento che nessuno di noi potrà mai capire e comprendere, dall'essere uguale a Dio all'essere come un servo. Gesù non è stato geloso della sua gloria, non è stato geloso delle lodi, delle miriadi di angeli, non si è aggrappato gelosamente neppure alla sua divinità. Gesù considerò tutto questo inferiore al valore della mia e della tua anima. È proprio vero che Dio ha tanto amato il mondo. Permettetemi di dire che chi dice il contrario non ha mai letto e considerato queste parole. A che cosa ti stai aggrappando questa mattina? A che cosa ti stai aggrappando così gelosamente? Tutto quello a cui ci aggrappiamo un giorno, in un modo o nell'altro, lo dovremo lasciare. E allora? Allora ascoltiamo il consiglio antico. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. E con questo vi auguro una buona giornata e che il Signore vi benedica. Allora 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 Grazie a tutti.